Avere una fede chiara, secondo il credo della Chiesa, viene spesso etichettato come fondamentalismo, mentre il relativismo, cioè il lasciarsi portare qua e là da qualsiasi vento di dottrina, appare come l'unico atteggiamento all'altezza dei tempi moderni. Si va costituendo una dittatura del relativismo che non riconosce nulla come definitivo e che lascia come ultima misura solo il proprio io e le sue voglie. Noi invece abbiamo un'altra misura, il figlio di Dio, il vero uomo. E' lui la misura del vero umanissimo. Adulta non è una fede che segue le onde della moda e l'ultima novità. Adulta e matura è una fede profondamente radicata nell'amicizia con Cristo. Ed è questa amicizia che ci apre a tutto ciò che è buono e ci dona il criterio per discernere tra vero e falso, tra inganno e verità. Questa fede adulta dobbiamo maturare. A questa fede dobbiamo guidare il Greco di Cristo.